Segretario, oggi a Cepagatti c'è questo convegno in cui si parla di disabilità, disabilità che non vuole essere diversità ma che anzi deve essere inclusione soprattutto. Sì, infatti, questa mattina la struttura di Val Pescara della Will Pensionati ha organizzato insieme alla Segreteria Confederale della Will e alla Segreteria Regionale della Will Pensionati Abruzzo una iniziativa importantissima per l'apertura degli sportelli di ascolto e vicinanza per favorire le inclusioni delle persone con disabilità. Noi riteniamo che la disabilità sia un argomento ancora non approfondito e trattato a dovere. Salutiamo con molto interesse questa legge sulla disabilità che è stata approvata a livello nazionale, è una legge delega, naturalmente quindi andranno creati dei contributi, andranno inseriti all'interno di questa legge dei decreti che possano realmente affrontare l'argomento della disabilità a 360 gradi in tutti i suoi aspetti. Quindi questi sportelli di ascolto vogliono essere proprio propedeutici e vicini alle persone che hanno difficoltà, alle persone più fragili, alle persone disabili appunto che vogliano intraprendere un ragionamento che sia appunto a 360 gradi a tutto campo dal momento della nascita al momento del pensionamento e nell'intermezzo nella fase lavorativa per un'inclusione sociale e lavorativa scolastica in tutti i campi. Segretario, questo convegno è un incontro importante un giorno per fare un po' il punto della situazione anche perché si parla di disabilità ma si parla anche di persone e di pensionati in un paese, in una regione che conta sempre più pensionati. Questo è un contributo che la categoria dei pensionati della UIL vuole dare al dibattito che è sempre aperto su un tema fondamentale di come si può aiutare ed accompagnare quella parte più debole della nostra società attraverso il mondo del lavoro, della formazione e potergli consentire di avere una vita del tutto normale anche perché è così nei fatti e questo contributo noi lo facciamo aprendo questi sportelli su tutte le nostre sedi a livello regionale e mettendoci a disposizione per tutto quello che possiamo dare come supporto sia a livello dei nostri servizi di padronato del CAF ma anche come squisitamente sindacali come UIL e credo che sia un momento importante. La UIL è il sindacato dei cittadini a 360 gradi.